Dove ricordo che siamo stati i primi a scendere in piazza fregandocene totalmente di multe, fregandocene di denunce, fregandocene di tutta questa repressione infame di questo governo infame. Stiamo andando a Montecitorio a fare un buon caldo civico e fai niente. Stiamo andando a Montecitorio a fare un buon caldo civico e fai niente. Stiamo andando a Montecitorio a fare un buon caldo civico e fai niente. Stiamo andando a Montecitorio a fare un buon caldo civico e fai niente! Stiamo andando a Montecitorio a fare un buon caldo civico e fai niente. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Parfaitos 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 Grazie a tutti.